Noi siamo venuti qui alla sede della Cisle perché abbiamo fatto un po' il giro del sindacato, delle sedi del sindacato e voglio dire, sto cercando di capire se si può pensare a un autunno migliore degli altri autunni, nel senso anche quest'anno sarà un autunno caldo per il sindacato e per le vertenze in atto? Io penso proprio di sì, i problemi non si risolvono dall'oggi al domani, specialmente in una provincia che ha tanto bisogno di essere eseguita come quella crotonese. Però una cosa è certa, noi batteremo per quello che ci riguarda, per quello che mi riguarda come Cisle, su due temi che penso siano importanti e servano anche a dare un segnale forte alla gente di questo territorio perché c'è bisogno di segnali forti e poi perché penso che sia un'attività che qualifichi l'operato del sindacato. E parlo della sanità e parlo della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro. Quindi questo è quello che il sindacato confederale, nello specifico la Cisle, porrà alla prima pagina della sua agenda nell'attività autunnale. La sanità calabrese, la sanità crotonese è da tenere in forte, forte considerazione. Io penso che sia un paradosso, sia paradossale, in una regione, in un territorio dove l'emigrazione giovanile aumenta di anno in anno. È veramente preoccupante il rapporto o l'anticipazione del rapporto della Swimets che ci dice che nel corso di 16 anni due milioni di laureati hanno abbandonato il mezzogiorno. Sono questioni che ci fanno male, che fanno male al territorio e non danno purtroppo prospettive ai giovani del nostro paese. Allora pensare che un territorio dove la popolazione invecchia sempre di più non è garantita l'assistenza sanitaria per come dovrebbe essere. Lei ha ragione. Il problema vero è un altro. Che negli anni abbiamo avuto classi politiche e dirigenti che hanno tenuto poco in considerazione quella che era l'emigrazione dei giovani. I nostri giovani sanno che nel nostro territorio diventa difficile avere un posto di lavoro e quindi dopo tanti sacrifici preferiscono continuare la strada fuori dai confini della Calabria piuttosto che tornare qui. Effettivamente così però non possiamo permetterlo da genitori e da dirigenti ecco di un'organizzazione sindacale ma non possiamo permetterlo perché da questione meridionale sta diventando una vera e propria questione democratica. Dal 2010 ad oggi è triplicato l'esodo giovanile. Noi dobbiamo fare in modo di invertire la tendenza. Ma come? Per esempio creando una vera alternanza scuola-lavoro. è importante poter inserire o far vedere ai giovani quella che è l'attività quello che è l'attività del territorio, le nuove tecnologie quindi creare una vera alternanza scuola-lavoro quindi con la presenza della scuola che penso sia importante che debba ritornare a svolgere quel ruolo di educatore sociale che un po' manca al territorio e bisogna farlo quindi creando veramente delle alleanze sociali quindi col sindacato, con le istituzioni, con la scuola perché dobbiamo creare lavoro lavoro vero, lavoro onesto perché creare lavoro vuol dire anche togliere dalle grinfie della criminalità organizzata che attanaglia questo territorio e tutta la regione Calabria quindi togliere i giovani dalle grinfie della criminalità organizzata perché col lavoro, quello vero, quello onesto che si creano i presupposti per debellare la malavita dal nostro territorio Abbiamo delle questioni, dobbiamo dire, delle vertenze aperte che attendono risposte da molto tempo penso alla bonifica penso alla costituzione del lato regionale per quanto riguarda il servizio idrico penso ad esempio anche alle vertenze che sono in qualche modo il simbolo di un fallimento politico mi riferisco in particolar modo a gestione dei servizi ecco, noi abbiamo una realtà sempre più povera abbiamo questa emigrazione dei giovani che quindi è un'emigrazione culturale abbiamo però una realtà che potrebbe sicuramente cambiare il corso della sua vita e quindi dare una nuova immagine di Crotone secondo lei perché tutto questo non avviene? È una bella domanda in sostanza io penso, non voglio dare colpe alla politica o così, giusto per utilizzare frasi fatte o luoghi comuni penso che comunque ci sia giunto il momento di rimboccarci le maniche quindi stiamo aspettando veramente con trepidazione il momento che parti, la bonifica di questo territorio e ci crediamo crediamo che possa essere una svolta occupazionale per questo territorio che ne ha veramente tanto tanto bisogno e abbiamo per questo avviato un ragionamento anche con la prefettura di Crotone per valorizzare le maestranze e le professionalità del territorio nelle operazioni di bonifica penso che questo territorio meriti questa attenzione e penso che Enis, Indial debbano dare la giusta attenzione a questo territorio perché hanno trasformato Crotone da una delle città più industrializzate d'Europa a una delle città più inquinate d'Europa Infatti parlavamo prima di salute il numero dei morti per tumore cresce puntualmente e soprattutto dobbiamo anche aggiungere che in realtà ci sarebbe necessità anche nella nostra terra di poter curare le persone affette da tumore Sì, effettivamente le dicevo prima che sarà per noi un argomento nella prima pagina dell'agenda autunnale il problema della sanità ma proprio perché la sanità su Crotone ha un aspetto importante che va al di là delle questioni economiche o dei tagli o della creazione di economie di scala per la sanità su Crotone è un fatto sociale un territorio che è tagliato fuori per via delle infrastrutture per via del lavoro che manca non può essere tagliato fuori anche sulla questione sanità per questo noi come CISL auspichiamo che venga superato il commissariamento regionale ma non perché debba tornare poi alla politica la gestione della sanità ma deve andare in mano a un manager che abbia le competenze e che acceda alle attività attraverso un concorso pubblico ecco, noi vogliamo che vada gente qualificata quindi che non si tagli in maniera orizzontale sulle spalle dei tanti, tantissimi malati di questo territorio soprattutto della provincia crotonese c'è una realtà che sta decollando che vorrebbe decollare ma non riesce che è il Marrelli Hospital penso sia un'eccellenza di questo territorio quindi penso che debba essere data la possibilità al gruppo Marrelli di potersi misurare con quelli che sono i bisogni di questo territorio è ovvio che anche lì c'è un discorso che va al di là della questione meramente economica ma perché è un fatto sociale questo territorio ha bisogno della presenza delle istituzioni ha bisogno della presenza di strutture qualificate che possano dare risposte serie 300 milioni di euro l'anno è l'esodo per la sanità calabrese siamo abituati ormai a vedere esodo dappertutto esodo di giovani esodo di risorse per la sanità e allora siccome molte regioni del nord strutturano i loro bilanci sulla base dell'esodo che arriva dalle regioni del mezzogiorno una di queste è la Lombardia la Lombardia ma anche l'Emilia Romagna e quindi lì dobbiamo cominciare a ragionare a capire se ci sono veramente delle lobby che vogliono gestire il sistema sanitario nazionale e garantire alcune regioni a discapito di altre questo dobbiamo attenzionare e dobbiamo farlo assieme alla deputazione alla nuova deputazione calabrese che oggi deve mantenere le promesse che ha fatto durante la campagna elettorale quando è iniziata la crisi delle fabbriche insomma abbiamo visto uomini papà donne di 40 anni 45 anni che si sono ritrovati fuori dal mondo del lavoro e oggi questo numero è cresciuto perché la disoccupazione è in netta crescita dobbiamo dire piuttosto che il lavoro quindi questa crisi che c'è è una crisi che dobbiamo continuare a sopportare o il sindacato è in condizione attraverso tavoli istituzionali di poter arrivare al dunque finalmente no dobbiamo farlo per forza dobbiamo il sindacato deve giocare la sua parte e io dico sempre ai miei colleghi che dobbiamo uscire dalle frasi fatte e dai luoghi comuni dobbiamo cominciare a rimboccarci le maniche incalzando le istituzioni per creare le opportunità di lavoro vere dobbiamo anche avere il coraggio di bloccare alcuni processi demagogici che fino ad oggi hanno trovato sponda hanno trovato spazio nell'attività sociale di questo territorio penso alla gestione servizi il fallimento era ormai un fatto scontato non si poteva fare altrimenti un carrozzone che accumulava debiti di anno in anno ai quali non si poteva più fare fronte quindi col sindaco abbiamo già fissato un incontro subito dopo la pausa estiva quindi per sederci e per capire come ricollochiamo queste persone come ricollochiamo questi lavoratori Crotone è la provincia con un tasso di disoccupazione elevatissimo elevatissimo il 40% dei giovani tra i 25 e i 34 anni lavorano c'è poca occupazione femminile l'occupazione femminile addirittura viene bistrattata non c'è la possibilità di conciliare le ore di lavoro con le ore di vita e quindi dobbiamo assieme alle forze sociali a tutte le forze sociali di questo territorio creare una grande alleanza per invertire la tendenza per creare le condizioni di lavoro vero lavoro onesto al cui fianco ci deve essere la formazione perché se c'è formazione ci sono meno incidenti sui luoghi di lavoro e in questi giorni stiamo assistendo veramente ad uno stilicidio cioè è impensabile che una persona esca di casa la mattina saluti moglie e figli per non fare più poi ritorno a casa cioè è impensabile il lavoro è vita il lavoro non può essere morte infatti c'è necessità di sicurezza sui posti di lavoro sono in queste ultime ore in questi ultimi giorni abbiamo sentito due tre casi dopo il caso di Crotone quindi una Calabria che molto probabilmente ancora oggi non riesce a dare sicurezza sui posti di lavoro è proprio questo è proprio questo il nostro il dramma è questo sul quale stiamo lavorando abbiamo fatto abbiamo avviato un bel percorso con la prefettura di Crotone col prefetto Cosima di Stani col quale è in costituzione costituendo è al vaglio del ministero è al vaglio del ministero un protocollo proprio sulla tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro dove il sindacato svolgerà una parte e un ruolo attivo e la stessa cosa stiamo facendo anche con la prefettura di Catanzaro con la dottoressa Ferrandino con la quale abbiamo istituito un tavolo permanente nel quale il sindacato farà un ruolo di attore principale quindi non soltanto la protesta ma anche proposta da parte delle organizzazioni sindacali e avvieremo lo stesso processo anche con la prefettura di Vibo Valencia già abbiamo incontrato in maniera ufficiale prima della pausa estiva il dottor Gualtieri il nuovo prefetto di Vibo Valencia che è disponibile ad un tavolo di confronto a un tavolo permanente che possa dare un segnale e che qualifichi l'attività del sindacato ma anche della prefettura nei territori di Catanzaro di Crotone e di Vibo Valencia che è il territorio che questa UST che rappresento quindi UST della Magna Grecia rappresenta sul territorio infatti Cisle Magna Grecia questo potrebbe essere un buon segnale se pensiamo anche all'antica Crotone a quello che si potrebbe fare con i fondi che ci sono a parte quelli che ci sono stati assegnati dal tribunale di Milano quando c'è stata la causa allora dico si potrebbe fare veramente tanto ma che cos'è che non fa partire nulla e che in realtà mette tutto in stand by purtroppo è la burocrazia l'Italia ha creato normative cioè il Parlamento ha legiferato e ha creato normative su normative molte volte per evitare le infiltrazioni per evitare per evitare che possa che la corruzione possa avere un ruolo predominante nelle attività nelle attività di gestione e quindi di rifacimento delle strutture territoriali perché purtroppo la corruzione lo ha detto anche Papa Francesco in diverse occasioni è un male è un cancro che avvelena il territorio e noi guardate l'Italia è il secondo paese per corruzione in Europa il 98% di corruzione dopo siamo i secondi dopo la Romania quindi purtroppo dobbiamo fare i conti anche con quello con l'evasione fiscale è un paese difficile difficile da gestire quindi è un fatto culturale e il sindacato per questo sindacato insieme alle altre forze sociali insieme alla scuola insieme alle istituzioni deve creare cultura sociale per il sindacato per la CISL oggi fare attività sindacale non vuol dire soltanto occuparsi delle questioni che riguardano la retribuzione la contrattazione la contribuzione che per carità di Dio sono il core business dell'attività sindacale ma per il sindacato oggi fare sindacato vuol dire fare solidarietà ma fare anche cultura sociale ma il sindacato si tre sindacati si incontrano discutono sono sulla stessa posizione o ognuno va per la propria strada no grazie a Dio il sindacato specialmente su Crotone si incontra dialoga ci vedremo sicuramente nella prossima settimana abbiamo già fissato degli incontri per ragionare su quella che è la vertenzialità crotonese io penso che l'unità sindacale stia alla base della forza del sindacato confederale in un paese dove oggi non ci sono più punti di riferimento dove la politica ha perso i suoi legami col territorio ed è distante dal territorio il sindacato è diventato e rimarrà ancora un presidio fondamentale di legalità con le nostre sedi con i nostri operatori sociali con i nostri operatori di servizi con i nostri sindacalisti che presidiano il territorio e che hanno un grande grande rapporto di sussidiarietà con tutti i cittadini con i disoccupati con le famiglie con gli studenti con i lavoratori quindi c'è uno sportello aperto per incontrare queste persone c'è la possibilità io dico sportello aperto per dire chi viene qui al sindacato va nelle altre sedie degli altri sindacati viene ascoltato c'è la possibilità insomma di un dialogo e soprattutto di un ascolto perché se viene qualcuno vuol dire che ha dei problemi certo la nostra per noi l'attività sindacale non è un'attività lavorativa ma è una missione da noi le persone vengono per esprimerci bisogni è cambiata un po' quello che la rappresentanza sindacale ma in tutto il territorio nel sistema paese perché da tutele collettive sono diventate ormai tutele individuali quindi la gente ha bisogno di servizi ha bisogno di risposte che riguardano la propria sfera sociale ed economica i disoccupati gli studenti i lavoratori i pensionati e alla CISL trovano trovano risposte a 360 gradi tutti i giorni per noi le sedi sono importanti sono un presidio e un punto di riferimento importante la gente sa che può contare sui dirigenti sindacali sugli operatori sindacali sugli operatori di servizi sui volontari sui tanti 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 volontari che popolano le nostre sedi quindi per questo le anche le abbelliamo per dare per essere confortevoli e per dare ospitalità alle persone che ci chiedono una mano che ci chiedono un consiglio che ci esprimono i loro bisogni quindi possiamo dire si può seminare speranza si può seminare speranza ma io penso che non voglio buttarla così giù e dire delle frasi giusto per ma sicuramente questo autunno sarà un autunno più caldo dell'estate che ci sta lasciando il sindacato farà sentire la sua voce sbatterà i pugni sui tavoli istituzionali a partire le ripeto dalla società di gestione dei servizi e per quello che concerne anche a Crea sulla quale l'avertenza ormai è biennale e si deve concretizzare e chiudere subito dopo le festività natalizie con la partenza della differenziata nel comune crotonese queste sono anche le progettualità che deve mettere in campo che devono mettere in campo le istituzioni e al quale il sindacato deve dare un contributo in maniera forte in maniera seria e in maniera propositiva c'è anche la vertenza aeroportuale che bisogna in qualche modo risolvere e lì c'è bisogno di un movimento forte e soprattutto di una presenza autorevole per poter risolvere le eventuali chiusure e soprattutto per permettere anche al personale di non essere assunto a tempo determinato c'è un mordi e fuggi perfetto è proprio questo il mio pensiero io la CIS non ha partecipato alla giornata di mobilitazione organizzata dal comitato cittadino ho spiegato in un comunicato stampa le ragioni della non partecipazione perché le cose non possono essere fatte così alla Carlona ma le cose vanno ponderate e studiate io penso che l'aeroporto crotonese possa essere messo in una condizione di sviluppo se viene messo in sinergia con gli altri aeroporti calabresi quello di Reggio Calabria e quello di La Mezzaterme non deve essere messo in un sistema di concorrenzialità con le altre strutture aeroportuali ma va studiato un piano di sviluppo il mio pensiero è questo io mi farò aiutare da un professore universitario un docente universitario dell'università di Cosenza dove relazioneremo quello che potrebbero essere le vie di sviluppo dell'aeroporto crotonese come può essere messo in sinergia con l'aeroporto di Reggio Calabria e di La Mezzaterme lo farò insieme alla federazione dei trasporti della CIS in modo tale che potremmo portare una proposta seria e concreta sia sui tavoli di Sacal ma sia sui tavoli regionali sul fatto che ci sono dei gruppi che vorrebbero di imprenditori che vorrebbero investire dove regna il silenzio perché nessuno li riceve questo lo chiederemo alle istituzioni in sostanza chiederemo alle istituzioni il perché imprenditori che hanno necessità di investire perché vedono l'aeroporto un volano di sviluppo per le loro attività ecco chiederemo perché non si può dare voce non si può dare seguito alle proposte di questi imprenditori ma è tutto quanto legato però a una progettualità e a una programmazione seria se c'è progettualità se c'è programmazione allora le cose si faranno e si devono fare per step quello che manca è la conoscenza del piano industriale di Sacal sì per questo noi vorremmo proporre a Sacal un piano industriale perché evidentemente il piano industriale Sacal non ce l'ha e allora a questo punto noi vorremmo dare una proposta concreta quindi uscendo dalle frasi fatte e dai luoghi comuni ripeto non è che si manifesta per dire l'aeroporto non deve chiudere ok ma non chiude perché perché c'è la possibilità di sviluppare questa progettualità cioè l'aeroporto di Crotone non è che deve essere per forza funzionante se non c'è la possibilità se è antieconomico vuol dire che è antieconomico si chiude allora vuol dire che però la gente del territorio deve essere messa nelle condizioni di poter raggiungere nel giro di pochi minuti l'aeroporto di La Mezzia Terme è quello bisogna capire come facciamo uscire dal isolamento la provincia crotonese sviluppiamo l'aeroporto perché ci sono le possibilità di farlo sia per quello che riguarda i voli turistici ma anche penso per esempio ai voli cargo allora c'è la possibilità di farlo lo facciamo se non c'è la possibilità di farlo allora mettiamo il territorio nelle condizioni di raggiungere La Mezzia Terme nei tempi nei tempi dignitosi in tempi in tempi civili ecco questo è quello che noi proporremo no c'è la possibilità